Cos'è il monocordo? Il monocordo è uno dei primi strumenti musicali a corda. Il suo realizzatore è Pitagora. Pitagora capirà, comprenderà, che l'altezza del suono prodotto da questo strumento che aveva una sola corda era determinata dalla sua lunghezza. Intervenendo sulla lunghezza del monocordo abbiamo suoni di diversa altezza. Il monocordo è uno dei primi strumenti musicali a corda. Ciao a tutti, al prossimo video!